Tanta buona per tutti ragazzi, io sono Julki e oggi vi porterò un bravo easter egg su Battlefield 4 multiplayer nella mappa Resort e Nanna. Per prima cosa dovrete raggiungere il tetto dell'hotel nel centro della mappa e raccogliere il barric. Dopodichè dovrete posizionarvi come illustrato nel video e puntare verso la barca arenata. Una volta messi nella corretta posizione vedete una luce bianca a cui dovrete sparare. La barca arenata inizierà ad esplodere e l'easter egg sarà completo. Non vi preoccupate, se non avete capito qualcosa il video illustrerà perfettamente tutti i passaggi da fare. Insomma ragazzi, il video è veramente corto ma esplosivo. Vi raccomando di lasciare un bel like e di iscrivervi al canale di Wanya. E magari, perché no, passare in descrizione che troverete il mio canale. Insomma ragazzi, io vi saluto e al prossimo video. Ciao! 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 Ciao!